ciao a tutti è uscito oggi windows 11 proviamo ad installarli insieme apriamo una schermata di google scriviamo windows 11 download il primo link che esce è il sito della microsoft clicchiamo abbiamo diverse opzioni allora la prima è quella dell'aggiornamento in pratica si aggiorna il sistema operativo che abbiamo attualmente in uso per esempio se abbiamo windows 10 viene aggiornato alla versione windows 11 e con la conseguenza che non si perdono nei dati nei programmi non si perde nulla si installa e basta come se fosse appunto un aggiornamento normale la seconda opzione che invece è quella che andremo a fare noi crea una chiavetta usb o un dvd a seconda di quello che vogliamo in modo tale da poter fare un'installazione pulita di windows la terza opzione invece ci permette di scaricare la iso di windows 11 per poterla masterizzare e avere un'immagine non è questo il nostro caso noi preferiamo fare la chiavetta buttabile come dicevo prima appunto per avere una situazione pulita senza portarci dietro eventuali problemi di registro o problemi vari di file corrotti cestini file temporanei eccetera si parte da una situazione pulita in modo tale da avere il massimo delle prestazioni dal computer inoltre ricordo quando per esempio c'è stato l'aggiornamento a windows 10 quindi parecchi anni fa e erano venuti da noi laboratorio molti computer e che non non avevano fatto non riuscivano a partire correttamente dopo questo aggiornamento a windows 10 alcuni non partivano proprio alcuni invece partivano con schermata blu altri invece partivano con una schermata nera dove si vedeva solo il mouse e quindi diciamo quando si fa l'aggiornamento quindi la prima opzione e diciamo che un rischio che qualcosa vada storto potrebbe esserci sempre per questo motivo prima di fare qualunque cosa è sempre consigliato a fare un backup dei dati in ogni caso andiamo dal scegliamo la nostra opzione facciamo scarica ora lo scarichiamo scarichiamo un file che si chiama media creation tool è un file leggerissimo proviamo ad aprirlo e a fare segui ok allora abbiamo le operazioni preliminari accetta allora nel frattempo cosa dobbiamo fare abbiamo inserito la nostra chiavetta usb vi faccio vedere un secondo abbiamo inserito la nostra chiavetta usb dobbiamo fare tasto destro formatta la dobbiamo formattare in fatt 32 diamo il nome che vogliamo per esempio windows 11 quindi 12 11 facciamo avvia ok la chiavetta è stata formattata torniamo invece al tool di windows 11 l'installazione di windows 11 seleziona la lingua e queste opzioni sono già in automatico perché vengono prese dal nostro computer se io tolgo il baffo qui vedete che ho la possibilità di modificare la lingua e basta facciamo avanti diciamo che vogliamo creare l'unità flash usb avanti qui ci sarà l'elenco delle nostre unità rimovibili quindi le nostre chiavette usb in questo caso vedrà solo quella che ho appena messo quella che abbiamo chiamato prima windows 11 facciamo avanti vediamo un attimino cosa succede ecco sta iniziando a scaricare e a creare la chiavetta a questo punto dovremo aspettare e non so vediamo credo una decina di minuti ci vediamo dopo eccoci qui ci ha messo circa 15 minuti ha creato la nostra chiavetta a questo punto dovremo usb facciamo fine adesso ci spostiamo sul computer per provare a fare l'installazione insieme andiamo inseriamo la nostra chiavetta usb sul computer questo qui è un computer hp dobbiamo fare il cambio di boot nel senso che dobbiamo dire al computer che deve partire invece che con l'hard disk normale deve partire dalla chiavetta su hp si fa premendo il tasto di accensione e premendo il tasto f9 ci spostiamo con le frecce e in questo caso scegliamo la nostra chiavetta usb diamo l'ok e aspettiamo allora ci chiede la lingua da installare il formato ora è valuta e layout della tastiera noi facciamo avanti installa su questo computer è già presente un sistema operativo windows 10 come abbiamo detto prima vogliamo fare la formattazione completa quindi andremo a cancellare tutte le partizioni per installarlo da zero da capo quindi accettiamo i termini della licenza avanti in questo caso facciamo personalizzata la seconda opzione andiamo a selezionare tutte le partizioni e le eliminiamo le selezioniamo uno per uno e facciamo elimina successivamente ok elimina ok elimina ok fino a quando non abbiamo uno spazio non allocato della dimensione del nostro disk facciamo avanti e aspettiamo che copia essendo un ssd dovrebbe essere abbastanza veloce che bel luogo e che bella schermata allora ci chiede il paese ovviamente selezioniamo italia e facciamo sì il layout della tastiera facciamo italiano vuoi aggiungere un secondo layout direi di no quindi ignora connettiamoci a una rete